Frosinone spugna il Palas Coppa di Soverato 3-1 e si avvicina alle Final Four di Coppa Italia di A2. Siamo con il libero della squadra laziale, Iole Ruzzini, una delle principali protagoniste di questa partita. Come anche il resto della squadra, anche tu hai fatto una buonissima partita, una partita per 3-7 lottata. Diciamo così, poi nel quarto siete venute fuori sfruttando anche i diversi errori del Soverato, avete chiuso in maniera più agevole. Sicuramente è stata una partita difficile, combattuta, soprattutto venire a giocare a Soverato per noi di Frosinone non è mai facile. Già in campionato qui abbiamo preso una battosta di 3-0 e questa vittoria in Coppa Italia a noi la volevamo fortemente. Abbiamo avuto un sacco di problemi in settimana, da infortuni che ormai ci portiamo da qualche periodo, influenze varie. E questa è stata più una vittoria voluta con il cuore, con la volontà di proseguire in Coppa piuttosto che studiata tatticamente o altro. È una squadra la vostra che sta attraversando un buon periodo dal punto di vista dei risultati. Siete al quarto posto in classifica, potete essere la mina vagante di questa Serie A2? Noi continuiamo ad allenarci e giocare settimana in settimana per cercare di centrare questi play-off il prima possibile. Era il nostro obiettivo dall'inizio dell'anno, provare a giocarci il tutto e per tutto a maggio, cercare di proseguire poi in Coppa fino ad arrivare alla finale, alla Final Four. E comunque, nonostante qualche sfortuna e lavorando magari non sempre al completo, ci stiamo mettendo tanto passione e tanto cuore. Coach Breviglieri, una sconfitta casalinga nei quarti di finale di andata col Frosinone. 3-1, dicevamo anche con il libero del Frosinone, una partita equilibrata per 3-7,5. Poi, mollato forse anche un po' di testa il Soverato, sicuramente quel 21-18 del terzo set, con il set perso poi alla photo finish, ai vantaggi, ha pesato non poco sotto l'aspetto mentale. Sì, sicuramente quel set, se fosse stato vinto, probabilmente si sarebbe affrontato il quarto set in maniera diversa. Però, quelli purtroppo sono episodi, abbiamo gestito male il finale, anche per merito loro, perché io devo dire una cosa, io solitamente sono molto critico nei confronti della mia squadra, soprattutto nelle sconfitte, ma questa sera devo dire che noi abbiamo sicuramente delle responsabilità, prima tra tutte quella di aver battuto veramente molto, molto troppo facile. E con il loro palleggiatore aveva la palla sempre in testa e con gli attaccanti che hanno loro, soprattutto Icchice, Perkan e Campanari, se il palleggiatore ha la palla in mano, per il nostro muro diventa veramente molto, molto, molto difficile. Detto ciò, secondo me vanno riconosciuti anche grandi meriti a loro, perché hanno sbagliato veramente poco, in tutti i fondamentali, hanno sbagliato poco, poco, poco. E vi assicuro che i loro attaccanti passavano veramente molto, molto alto, soprattutto Perkan e Icchice passavano veramente molto bene fuori dal muro. Noi abbiamo avuto qualche responsabilità in difesa, soprattutto nei primi set. Che devo dire, complimenti a Forzinone, che è sicuro... Io avevo indicato, non so se qualcuno di voi si ricorda, in tempi non sospetti, prima dell'inizio del campionato, questa squadra come la terza forza del campionato. Continuo a credere che sia la terza forza del campionato. Può aver pesato anche, in un certo senso, anche l'infortunio di Alessia Travaglini, che in un momento cruciale ha dovuto lasciare la squadra per questa distorsione alla caviglia. Innanzitutto l'obiettivo adesso è recuperarla il primo possibile, anche in ottica campionato. Sì, ma non credo che abbia inciso più di tanto, anche perché Valentina, quando è entrata, tutto sommato, il suo dovere l'ha fatto. Io credo che il problema più grosso ce l'abbiamo da posto 4, soprattutto con Nicolova, che in questo momento è inutile negarlo, sta facendo veramente tanta fatica a mettere la palla per terra. Io sono già due partite che ho invertito gli schiacciatori, forse qualcuno non se ne è neanche accorto, ma per cercare di farla giocare più spesso, giocando sull'attacco a tre, in teoria dovrebbe avere un po' meno carico da un punto di vista, non è più il primo attaccante ma diventa il secondo attaccante. Però a quanto pare domenica qualcosa abbiamo fatto, ma non ha sicuramente brillato e oggi purtroppo ha fatto fatica anche oggi.